ciao buonasera a tutti proviamo oggi a parlare del settimo corpo aurico ovvero il corpo causale sì questa volta il settimo non l'ho fatto come nel video scorso che per tutto il tempo pensavo che il corpo astrale fosse il terzo corpo invece il quarto chiedo bene un'altra volta allora il troppo causale l'ultimo corpo anche se l'ottavo sarebbe questo carnale l'ultimo corpo per quanto riguarda i corpi spirituali è chiamato infatti il corpo spirituale la coscienza superiore è lo spirito è il santuario nascosto o luce interiore chiamata anche anima gli orientali parlano di questo corpo come il corpo che origina che è all'origine di di tutto diciamo all'origine all'inizio il corpo causale di o prima di ogni altra manifestazione ok è il nel sé spirituale l'anima che si riconnette con lo spirito all'aspetto più elevato della coscienza umana cioè in pratica no perché detta così anche per me non è stato semplicissimo da da comprendere tempi tra l'altro sono appunti presi da un pdf di 150 pagine che però se vi interessa magari approfondire vi lascio il link comunque chi me lo chiede lascio il link qui sotto perché veramente spiegato in un modo ma di una precisione di una chiarezza indissolubile veramente indissolubile mi sa di canzone vada io cercherò di farvi comprendere ma non è proprio semplicissimo comunque il corpo causale proprio per dirla spiaccicata stesa stesa è quello che che vada rimane lo stesso da un'incarnazione è lui che si sposta da un'incarnazione all'altra è il corpo causale è il corpo che comincia a svilupparsi nel momento in cui inizia la nostra evoluzione spirituale quindi abbiamo un'evoluzione la nostra prima vita avevamo un corpo causale trasparente man mano si va colorando quando poi una persona è elevata spiritualmente questi colori sono molto accesi le spalle si parte che sto un uomo primitivo con la clava in mano aveva un corpo causale trasparente man mano nelle sue varie incarnazioni è andato pian piano colorarsi se poi questa persona è riuscito a elevarsi spiritualmente oggi avrà questo corpo causale molto colorato con dei colori veramente molto intensi vibra sicuramente a frequenze molto più elevate dei piani inferiori quindi degli altri corpi si trova a circa un metro e mezzo sopra la nostra testa ciao colpo causale chissà che cosa magari è lui che mi dipinge i capelli ma speriamo praticamente è è colui che realizza la propria anima il proprio ego un corpo relativamente immortale praticamente l'entità è l'ego che passa scusatemi che abita e ad opera il corpo causale entità è l'ego che bu 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 passa da un corpo causale e passa da un corpo fisico all'altro appunto tramite il corpo causale deve questo nome al fatto che in esso risiedono le cause che si manifestano come i relativi piani inferiori quindi con l'effetto del piano inseriore è la causa quindi le esperienze delle vite passate sono la causa della attitudine che abbiamo nella vita attuale e così anche per le vite precedenti spero di essere il più chiara possibile ha due funzioni agire come veicolo dell'ego dell'io ego nel senso non egoista nel senso cattivo come spesso viene usata la parola ego ma è con il senso dell'io di noi stessi che non è un male cioè no a regola è un bene il nostro il nostro ego il nostro essere l'egoismo è tutta un'altra storia però leggo cioè il mio e l'altra funzione è che agisce come riserva di esperienze delle varie incarnazioni il corpo causale ci sono le nostre esperienze passate anche quando uno va a fare le ricerche le vite le vite precedenti va a indagare sul corpo causale è il dove si ritrovano tutte le emozioni pure è un involucro dove esistono tutte le possibili forme del dell'uomo alla fine sì perché è lì che si forma man mano il nuovo il nuovo corpo causale è anche la forza creatrice che poi alla fine può dare una realtà oggettiva il corpo causale è costituito da materia dalla stessa materia che ha il corpo mentale il piano mentale ricordando poi che ogni atomo di materia mentale contiene cinque milioni di bolle di coillon possiamo fare i nostri calcoli se poi volete avere notizie più precise anche riguardo al corpo e alla struttura fisica magari vi consiglio questo punto veramente di andare a leggervi quel pdf di 150 pagine perché io cerco al momento di dire a parole più più leggere possibile quello che è il corpo causale però ecco se avete voglia necessità o domande magari vi indirizzo a quella a quel testo che a me veramente ha aperto la mente scusate i miei appunti scusate mi sposto sotto qui ho preso appunti sulla differenza di anima e spirito perché non era ecco mi sono spostata e non sono più centrale cerco sempre anch'io di ricordarmi le cose e quindi anche la differenza tra anima e spirito che non sono assolutamente la stessa cosa ma come ve lo spiego non è semplice diciamo che l'anima è la parte vitale di ogni essere vivente cioè quando si pensa appunto all'universo un dio un'entità superiore che immette la vita negli altri immette l'anima quindi soffia l'anima e questa entra e fa vivere appunto il corpo ed è immutabile questa a differenza dei vari corpi poi lo spirito è la forza vitale che è distinta dalla materia che interagisce con il suo quindi con lo spirito ed è il mediatore lo spirito tra anima e corpo è quello che sta in ovviamente mi sembra di avermi già spiegato che il corpo di un uomo di neandertal è sicuramente più trasparente di un uomo evoluto spiritualmente e magari adesso e niente diciamo che il succo è questo se avete domande me le potete fare qua sotto se ci sono informazioni o cose che non vi torno posso spiegare provare a spiegarvi perché non è una cosa ho cercato di semplificarlo io però ecco sarebbe un pochino più complesso per il momento è tutto spero di vedersi in un altro video di vedersi come se vedessi no magari vedo alcuni di voi che poi mi commentano i video in modo ecco, face to face faccio faccia quindi per il momento vi saluto spero di essere stata chiama insomma qualunque cosa domanda qua sotto io sono qua e cerco di dare il mio meglio vi saluto come sempre un abbraccio e al prossimo video ciao Ciao!